Ci siamo! Hai due anni per scoprire come raccontare la prossima storia che cambierà il mondo. Ambizioso? Forse. Ma sei qui, quindi anche tu lo sei. Questo è Story Design. Oggi inizia a macinare i romanzi di Bolagno, Hatwood e Cimamanda in Goziadici, magari scoprendo perché Steve Jobs non abita più qui. Con Google Trend terrai d'occhio come va il mondo e domani potresti progettare il lancio del nuovo liberato insieme ai tuoi compagni. Non ti basta? Allora continua, indaga, scopri qual è la tua personalità e se l'archetipo di Tesla è un mago o un'esploratrice. Bene, adesso corri a cambiarti. Stasera nella scuola è area di festa. E non è detto che la storia che stai cercando non sia proprio qui. Goditi giusto qualche ora di sonno e poi metti su un podcast, magari in stile serial. O realizza una campagna da urlo per Fridays for Future, solo con foglie di bambù. Sei nel mood? Allora chiudi il computer e entra in aula.